Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, permangono code e attratti per traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud verso Nord. In A11, code e attratti verso Firenze tra Pistoia e il Bivio con l'A1 e per avviabilità esterna che non riceve, due chilometri di coda tra Bivio 11 Firenze Nord e Firenze Peretola. Ci spostiamo in Cipili dove restano code e attratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci, in carregio d'opposta code in uscita a Santa Croce, a Pisa Nord-Est e rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est. Prudenza per pioggia su varie zone della Toscana, ricordiamo che oggi è in vigore allerta arancio su gran parte della regione, raccomandiamo di guidare con prudenza. Siamo al traffico urbano di Firenze, in settimana per lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete idrica segnaliamo provvedimenti di mobilità in via della Mattonaia. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con la regione Toscana, città meroportana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!